un saluto a tutti gli amici di toc toc tunisia oggi 18 febbraio 2022 siamo qui per vedere il film sicilienne d'afrique tunisie un film di marcello vivona prodotto da alfonso campisi con l'istituto italiano della cultura l'ambasciata una grande partecipazione italiana in tunisia un film che parla un dopo film che parla appunto della terra di tunisia che ha ospitato tantissimi italiani andiamo a vedere siamo appena arrivati con il nostro bus un bel gruppo di amici per rendere omaggio a questo documentario che parla appunto degli italiani dei tanti italiani e soprattutto dei tanti siciliani che in questi anni quindi già da oltre il 1800 hanno creato un vero e proprio insediamento abitativo dando un risalto fondamentale a quella che è l'integrazione tra popoli i siciliani soprattutto in questi anni hanno veramente popolato la tunisia ed io da siciliana mi sento molto commossa oggi perché è un po come una rappresentazione anche della nostra terra delle nostre culture quindi vi invitiamo a seguire questo video a condividerlo e soprattutto a seguirlo perché nella locandina che avete visto c'è anche una bellissima partecipazione di claudia cardinale abbiamo già i biglietti già pronti perché abbiamo fatto la prima tazione ci siamo già stati presenta dei consegnanti perché la cultura l'ho già il nostro elenco per cui abbiamo i biglietti in tasca che sono questi ecco sono per tutti quanti quindi adesso aspettiamo ancora un pochino e presto anche una mezzoletta possiamo prenderci un caffè e poi entrare in questo bel cinema a dopo guardate alle mie spalle c'è una bellissima esposizione appunto di claudia cardinale è famosissima perché lei è nata alla gulet e quindi con la famosa comunità degli italiani qui in tunisia in cui si conviveva insieme tutti quanti quindi non c'era distinzione tra religioni anzi tutto poteva essere diciamo tutto un senso di unione e di famiglia guardate un po ora ci andiamo ad accomodare così entriamo e prendiamo già posto ci siamo quasi ragazzi ci siamo Grazie a tutti per essere qui. Grazie a tutti. 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 Saludiamo i nostri amici italiani. Grazie a tutti. 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 altri piatti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buonissimo.